Ma l'opposizione è molto debole in Parlamento, purtroppo, proprio per l'Italia. Chiamiamo argomento, abbiamo un'intervista sull'unità al Ministro della Giustizia Alfano, parliamo naturalmente dell'Odo Alfano, abbiamo la domanda, da allora è stato un piacere il comune dell'Italia, per il comune di andare in carico senza più rilevanti, fino al Ministro di Giustizia e l'opportunità di legare il comune, ma prima o probabilmente lui è l'Odo Alfano. Non le deve essere indicato come comuni, perché non è stato un'intervista del Consiglio, al parere di poche per nulla, chi è chiamato a governare il Paese deve essere messo nelle condizioni in potenza di trovare, per il comune che occupa di garantire gli spazi dell'Italia, che risponde l'Italia, questo solo che si dà i lavori di sviluppo. Se dovete passare il problema, non potrete farlo. Obietta naturalmente l'intervista, ma questo lo potrete dire con quel cittadino. ha risposto, con la differenza, dice che per cinque volte il Presidente del Consiglio si è sottoposto al voto popolare. Governa perché la maggioranza di Italia gli ha dato il suo voto, ha chiesto che fosse lui ma questo non è, ma è tirato fino in fondo. Il loro Paese ha il suo scopo di garantire alle altre cariche dello Stato di svolgere i loro conti di differenza. Grazie. 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 Grazie.